Ciao amici e amiche del segno dell'acquario, benvenuti su Exoteric World, sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 1 al 7 aprile, ricordo prima di iniziare che questa è una stesa generica e potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più, se cliccate in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo nella stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli, sempre in descrizione ci sono i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibyl italiana, inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni, negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale, adesso andiamo a scoprire le prime indicazioni proprio dal taglio delle nostre bellissime Lenormand dove abbiamo il cuore e l'anello, direi che queste sono energie o comunque un evento legato a situazioni molto molto importanti della vostra vita perché quando c'è il cuore di mezzo effettivamente non riguarda soltanto le questioni di amore ma amore in senso lato, c'è una passione anche a livello di amicizia o di pacificazione quindi possibili riconciliazioni o anche di andare a curare, di donare la propria passione, il proprio amore verso un obiettivo ben preciso in questo caso l'obiettivo potrebbe essere trovare un accordo, favorire un impegno che sia comunque preso in comune a qualcuno, trovare un accordo o andare d'accordo con qualcuno e anche l'occasione giusta proprio per intensificare dei propositi, delle promesse che sono state fatte quindi ritrovarsi appunto a fare queste promesse e cercare magari di rispettarle in pieno vediamo un po' che sia promesse fatte da voi, che siano promesse fatte da un'altra persona che sia comunque il prendersi un certo tipo di impegno ovviamente non conta soltanto prenderlo quello è un buon inizio però poi bisogna procedere e per procedere effettivamente qui abbiamo una nuova porta che può aprirsi oppure può chiudersi in questa posizione si tratta di sicuro di andare a chiudere una porta per incominciare ad aprirne un'altra, almeno effettuare questo passaggio e come abbiamo visto magari sin dall'inizio potrebbe essere proprio una settimana molto 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 importante e decisiva, il fatto che ci sia al centro il gentiluomo indipendentemente dal fatto che state uomo o donna potrebbe essere una vostra energia principalmente in questo caso maschile, vuol dire che si deve tirare fuori la determinazione bisogna combattere, essere molto pratici, insomma tutte quelle qualità che sono tra virgolette prettamente maschili ma anche noi donne possiamo sicuramente averle, ecco perché si tratta di energia generale da tirare fuori, questo perché? Perché c'è una nuova fase di crescita, questo albero potrebbe essere a livello metaforico un vostro progetto, un qualcosa che dovete magari migliorare del vostro passato, qualcosa che avete lasciato sospeso e trascurato che ha bisogno di essere curato, coccolato, gestito in modo diverso appunto per far crescere questo obiettivo, questo proposito, qualcosa anche che riguarda magari un vostro percorso di crescita e evoluzione a livello interiore e spirituale. I segni di attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono quelli di fuoco, quindi ariete leone e sagittario, ci sono anche un po' quelli di terra, quindi tolovergine e capricorno, i segni che non ho detto non è che non avrete a che fare, che più o meno le cose sono già come le conoscete, quindi sapete come affrontarle. Abbiamo per l'ambito amore, chi è in coppia, poi vedremo single e il lavoro, donna, donna di servizio, bambino e donna maritata. Carte molto particolari, soprattutto con la carta del bambino, in genere si può riguardare situazioni legate a se avete figli e la famiglia stessa. In genere si tratta di più una nuova energia di trovare un appoggio, un sostegno, di crearsi delle opportunità vantaggiose, magari sia per andare a creare, sia per superare degli ostacoli, sia per gestire al meglio le vostre situazioni a livello personale e anche intimo e di coppia. Comunque c'è una fase di evoluzione, di miglioramento e queste incentivano tantissimo la collaborazione di trovare i migliori propositi, le idee per adottare delle strategie che vi possono far prendere cura al meglio dei vostri propositi o anche se ne avete bisogno a livello personale e intimo. Quindi questo è il momento giusto per evolvere, per crescere come abbiamo già visto. Lasciando andare alcune cose, cioè usando proprio la chiave, la chiave che è il vostro potere, di usare le vostre migliori qualità al meglio. Vediamo cosa vi vogliono dire per i single. Per i single abbiamo la carta conversazione, una carta molto interessante, poi pensieri e innamorato. Allora, queste sono carte che sia, mi piace, l'innamorato perché per i single può voler dire una forte attrazione, potreste essere attratti voi e quindi esserci un colpo di fulmine, un'attrazione. Per altri magari c'è disponibilità e attenzione per una pacificazione, per un incontro, per un chiarimento, soprattutto per questioni precedenti, una relazione passata oppure magari un qualcosa che c'è stato appunto nel recente passato perché c'è la conversazione. La conversazione è sempre una carta di incontro, di come abbiamo detto già a pacificazione, di avere un dialogo costruttivo, di ricevere, fare visite nel senso appunto di incontrarsi. Anche in alcune circostanze particolari, magari degli eventi, delle feste, il trovarsi insieme in giro, questo può favorire delle nuove conoscenze o anche incontrare appunto delle persone dove avete bisogno di chiarire, di comprendere, di capire alcune cose. Fateci caso che magari tra vecchie situazioni, chiarimenti e anche nuove conoscenze, magari c'è questo colpo di fulmine. Potreste voi fulminare qualcuno, nel senso attirare l'attenzione e non solo, magari appunto qualcuno potrebbe attirare la vostra. Vediamo adesso, infine, il lavoro. Abbiamo servo, allegrezza e sospiri. Nell'ambito lavorativo le cose sono un po' più tranquille, tra virgolette, può esserci qualche preoccupazione, qualcosa che è ancora in sospeso da sistemare, però essendoci la carta dell'allegrezza vuol dire che comunque voi vi impegnate, fate quello che dovete fare, procedete in questo modo o può anche arrivare in una situazione abbastanza piatta, abbastanza tranquilla, qualche momento di felicità e di soddisfazione. Può anche essere legato al fatto che ci si prende una pausa, magari per dedicarsi alle proprie cose, quindi riuscire a staccare dal lavoro, che procede nello stesso modo che conoscete, però quindi voi riuscite a scaricare la vostra attenzione facendo qualcosa di strettamente personale. Altrimenti per chi è in cerca magari soprattutto di lavoro, qui si vede una situazione che è abbastanza tranquilla e che devono essere valutate, attenzionate a alcune cose. Se le cose non vi soddisfano, se non riuscite ad ottenere dei risultati e delle risposte, queste carte suggeriscono di cambiare qualcosina, di essere comunque positivi, costruttivi, cercare altre situazioni, cercare anche delle motivazioni, capire effettivamente che cosa desiderate, appunto spingervi in una nuova fase di crescita. Come vi dicevo, soprattutto se c'è qualcosa che non va e soprattutto se vedete che quello che state facendo non riuscite ad ottenere i risultati che desiderate. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!